Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. La nuova Bertone è arrivata di nuovo a Ginevra ed io sono felicissima di presentare questa nostra nuova vettura. Noi siamo ripartiti con un gruppo nuovissimo creato da 200 persone di stilisti e engineering, per cui siamo in grado di fabbricare un'auto partendo dal foglio di carta, come diceva Nuccio Bertone, una matita e arrivare chiave in mano con un'auto pronta per il cliente. Quest'anno ci sono i cent'anni, si festeggiano i cent'anni di Alfa Romeo. Per questa occasione noi abbiamo voluto creare, data la nostra collaborazione con Alfa Romeo datata di tanti e tanti anni, abbiamo voluto creare una vettura Panjong che voi adesso avrete modo di vedere e vi prego di considerare questo nostro lavoro così come noi lo abbiamo fatto con tantissimo entusiasmo. Vi ringrazio tutti quanti. Questa è stata costruita, inginellata e costruzione in un po' di 4 mesi, dove Tone è esceppualmente fast, esceppualmente innovativi. Abbiamo usato un'unica storia di Alfa Romeo per celebrare questo 100 anno anniversario. Abbiamo usato il logo di Alfa Romeo, che si chiama l'intrinsic paradoxe, che si chiama il skin in frame. La skin è la sensazione di un'esplosione 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 e non avviciniamo il nuovo Alfa Romeo in futuro, ma come si chiama l'esplosione di un'esplosione oltre, vi vediamo in proportion, una bicamera di un'esplosione di un'esplosione di una una grande gara con una grande petite discoglione con un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione e un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione. E' una tutta una belta, 3.6 m talla. as we move the entire body side of the vehicle to open up a brand new entrance into the future of Alfa Romeo thank you very much